Quest'anno abbiamo finanziato ben 18 festival del cinema e 11 rassegne culturali, un record assoluto perché l'anno scorso siamo 13, più se rassegne culturali, quindi questo è un festival che tutti mi stanno particolarmente a cuore, però questa è una realtà consolidata, quest'anno festeggia il decimo anniversario, quindi nove anni alle spalle di un grande festival dove si sono avvicendati i grandi personaggi della produzione, produttori, autori, registi eccetera e quest'anno c'è un cast veramente di altissimo profilo professionale, prestigiosissimo, quindi Prino Cittigno, mio pasto presidente di Film Commission, ha creato veramente un piccolo caporovo di festival del cinema che rappresenta un po' il clou di tutti questi festival che sono avvicinati in Calabria. Ricordo anche che ci sono 57 in Calabria in questo momento, alcuni già chiusi, alcuni in itinere, alcuni ancora da iniziare, quindi insomma un bellissimo momento per la Calabria e soprattutto per la Calabria Film Commission.